bologna la dotta bologna la grassa bologna la turrita nel secolare immaginario collettivo la città si identifica con l'università con la cucina e con le torri che insieme ai portici ne sono l'emblema la prima immagine che ricordi pur sbiaditi di scuola o di cartolina presentano alla fantasia il profilo merlato e turrito di bologna comincia a delinearsi tra la fine dell'undicesimo e la seconda metà del dodicesimo secolo in parallelo a una decisiva fase di sviluppo della città e a un conseguente incremento demografico torri e case torri sorgono con improvvisa velocità per uno scopo tanto di difesa quanto di offesa ciascuno alla propria consorterie famiglie nobiliari feudatari inurbati e mercanti emergenti si sfidano per l'orgogliosa ambizione di slanciarle sempre di più quasi per accaparrarsi una scheggia di cielo una gara molto spesso suicida al punto che il comune sottopone la costruzione di torri a controlli sempre più severi per sventare il pericolo dei crolli all'alba del 200 lo skyline di bologna si presenta come una vera e propria selva di fusti di pietra una sorta di manhattan mante litteram la torre anche il simbolo della fortuna del gruppo familiare o mercantile che rappresenta in seguito a declino o sconfitta subisce l'umiliazione dell'abbassamento o addirittura della demolizione non a caso nei tarocchi la carta più scongiurata non è quella della morte segno di rinnovamento e di cambiamento radicale di condizione bensì quella della torre metafora di caduta e di shagura la comparsa delle armi da fuoco che progressivamente soppiantano l'uso delle balestre scardina la fede nell'inaccessibilità delle torri per rivelarne al contrario tutta la vulnerabilità e quindi l'inutilità al massimo del suo splendore la città arriva a contarne 200 oggi non ne restano più di una ventina alcune ridotte a meno di un mozzicone di pietra il maggior numero di quelle meglio conservate si concentra nell'area compresa tra le attuali via indipendenza e via oberdan si ergono qui le torri scappi guido zagni prendi parte e forse la più bella la torre azzoguidi che si eleva per 61 metri da una base rivestita di blocchi di gesso più avanti svettano le celeberrime due torri garisenda e asinelli quest'ultima in assoluto la più alta proprio in virtù dei suoi oltre 90 metri nel tredicesimo secolo venne acquistata dalla città per essere utilizzata come punto di osservazione oggi per tradizione scaramantica i soli a evitare la salita alla terrazza che ne circonda la sommità sono gli studenti universitari pena la bocciatura agli esami nella poco lontana via san vitale troneggia infine in ottimo stato di conservazione il torresotto una porta a torre di 20 metri di altezza un tempo inglobata nella seconda cinta muraria della città grazie a tutti grazie a tutti